Potenziare e integrare le capacità di difesa dell'Unione Europea e rafforzarne il settore industriale è questo uno dei temi centrali del Consiglio Europeo che ha aperto i lavori giovedì pomeriggio a Bruxelles. L'inserimento della questione in agenda è stata salutata da molti paesi, poiché era dal 2005 che non rientrava nelle discussioni del summit europeo. A raffreddare gli entusiasmi ci ha pensato tuttavia il premier britannico che ha dichiarato Ha senso che le nazioni cooperino nel campo della difesa per garantire la sicurezza di tutti e nel nostro interesse. Tuttavia non è bene che l'Unione Europea si doti di capacità comuni, eserciti, mezzi aerei e altro. Dobbiamo stabilire una separazione chiara fra la cooperazione e la capacità dell'Unione Europea. A commentare le dichiarazioni di David Cameron è stato il segretario generale della Nato presente al vertice. Non si parla di un esercito europeo ma di singole nazioni che investono maggiormente nelle aree critiche. C'è bisogno di droni, da osservazione, mezzi di rifornimento, aria aria e trasporti aerei pesanti. Se le nazioni europee faranno questo anche la Nato verrà rafforzata. L'altro tema nell'agenda del Consiglio è il completamento dell'Unione Bancaria. L'accordo sul meccanismo di risoluzione raggiunto dai ministri delle finanze dei 28 è un primo passo ma è molto lontano dalle posizioni del Parlamento Europeo, avvertito Martin Schulz. Abbiamo detto più volte sì all'Unione Bancaria, ha dichiarato il presidente dell'Eurocamera, ma riguardo a ciò che abbiamo in questo momento sul tavolo dobbiamo negoziare. Schulz ha detto di ritenere inaccettabile che l'Europarlamento perda le sue prerogative legislative a favore di un meccanismo intergovernativo. E' la Commissione che deve avere un ruolo centrale e non organi poco trasparenti con interessi altrettanto poco chiari, ha concluso.